Tanta moderata speranza. È quello che si avverte a un giorno dalla riunione romana del Precipe che ha come punto all'ordine del giorno l'autostrada Ragusa-Catania. Dopo anni di rinvii, forse ecco arrivare delle risposte, soprattutto in base alla modalità operativa di un'opera attesa da decenni. L'incontro di domani ha come oggetto itinerario Ragusa-Catania, cambio del soggetto a giudicatore e approvazione del progetto definitivo. Insomma, a giudicare dal tema, sembra che già si possa preparare la bottiglia da stappare, ma ancora bisogna andarci cauti. Presente domani all'incontro anche il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ormai da tempo in prima fila per la 514. Prima di cantare vittoria è meglio vedere con i propri occhi cosa accadrà, ha commentato Cassì. Cauto, ma con l'intenzione di seguire anche lui da vicino l'intero evolversi dell'incontro, anche l'assessore regionale delle infrastrutture Marco Falcone, oggi in terra iblea per parlare anche di Siracusa Gela, a confortare lo sblocco di 750 milioni di euro per la realizzazione dell'opera, uno di quei primi passi importanti che dovevano essere compiuti per ridare slancio e concretizzare l'infrastruttura dopo anni di tira e molla. Domani certamente la regione siciliana è presente, sino a qualche momento fa abbiamo parlato. Riteniamo ormai che a seguito della disponibilità da parte della regione siciliana e del presidente Musumeci a mettere sul tavolo ulteriori 387 milioni di euro e lo vorrei ricordare, proprio in questa prefettura abbiamo anche siglato un impegno, allora era verbale ma oggi è diventato anche sostanziale, la regione siciliana contribuisce significativamente con oltre 620 milioni di euro alla realizzazione di questa strategica arteria. Grazie a tutti.